A Dolo per l'inaugurazione del centro studi sulla criminalità organizzata, il ministro dell'interno Luciano Alamorgese si è espressa sull'eventuale scioglimento del comune di Eraclea per infiltrazioni della Camorra. La pratica adesso ce l'hanno gli uffici che stanno verificando tutto, quello che è la relazione, i vari elementi che sono emersi, dopodiché verrà portata sul mio tavolo. Già adesso ovviamente ho visto la relazione del prefetto e quindi entro marzo, il 18 di marzo c'è questa data e allora verificheremo. C'è sempre una prima volta, ha aggiunto il ministro, e se si dovesse verificare sarebbe un modo per sanificare un territorio. Sulle annunciate modifiche al decreto sicurezza poi, l'amorgese non si è sbilanciata. Ancora non ho parlato neanche con il presidente, quindi no. Poi vedremo con la maggioranza quelle che saranno le modifiche da portare. Durante l'inaugurazione del centro studi il procuratore Cherchi ha evidenziato la pesante carenza di organico di magistrati in Veneto. Io ho sentito con attenzione quello che ha detto il procuratore, ho anche detto che il provvedimento che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri giovedì scorso ha previsto un aumento degli organici in generale, quindi sicuramente nell'ambito della redistribuzione sicuramente verrà tenuto conto anche della situazione organico del Veneto.